Gol di Lucarelli, ex giocatore del Genoa qualche stagione fa, c'è stato un calcio d'angolo, il terzo angolo della partita per il Parma, bandierina di destra, pallone che arriva dalla parte opposta, esce dall'area di rigore una decina di metri, fuori dall'area sulla sinistra c'è appostato Lucarelli, tutta la difesa del Genoa è ferma, tant'è che quando Lucarelli sconca il suo tiro c'è perfino l'impressione che magari sia stato segnalato un fuorigioco, ovviamente niente di tutto questo, tutto è regolare dentro l'area di rigore della Genoa, il pallone scagliato dal sinistro di Lucarelli ha passato, tutta la difesa del Genoa come abbiamo detto immobile e ha trafitto Fre che festeggia in questo modo le sue 500 partite in Italia, oggi anche un giorno particolare per l'allenatore del Genoa Decagno che festeggia i suoi 55 anni, in questo momento questi festeggiamenti avvengono con il Parma in vantaggio per 1 a 0, 30 minuti 50 secondi, Catania.